SIGLA Mamma, devo confidarti una cosa. Teddy dice che non possiamo stare senza regole, perché altrimenti diventa tutto un disastro. Oh no! Non ci sono delle regole sulle favole e sulle coccole. Ma non servono regole? Ah no? E allora come facciamo? Le coccole sono una prova del mio amore per te. Che bello! Altrimenti avrà dovuto fare troppi disegni e per tutte le favole!